Dopo l'incredibile successo dello speciale angolo rotture Tornano le offerte Didel con un sabato XXL Prezzi XXL, orario di lavoro XXL, cassiera XXL Voce da uomo, 200 kg, puzza di gorgonzola E se le passi davanti dice con voce scazzata Sono 19,999 euro Telefono smartphone kamikaze con modalità aereo Delizie pasquali Colomba classica e colomba classica ricoperta di colomba classica Voce da uomo, 200 kg, puzza di gorgonzola Con funzione di colomba classica Coltellino indiano, anti venditori ambulanti Contiene bastone da selfie, occhiali, cappellino, tatuaggio, collane e un sacco di altre robe inutili E risponde in automatico, no grazie, ce l'ho già A 19,999 euro E con Didel viaggi, la sicurezza viaggia con te Due agenti della vigilanza a tuo carico ti terranno compagnia nelle tue vacanze Vieni a fare speso da Didel Sforniamo dipendenti disoccupati tutti il giorno Didel, ogni giorno è speso E' un vero uo al Didel E basta Non perderti le prossime offrete Solo da Didel